Bella ragazzi, bentornati su FIFA Hit, un altro episodio anche oggi perché non vedo l'ora di farvi vedere la nostra squadra e i nostri giocatori in Serie A e sono sicuro che questa è una carriera che sarà spettacolare col tempo e chiaramente adesso non può appassionare più di tanto perché comunque la Serie B non concede grandi big match e i giocatori sono ancora un po' deboli però sono sicuro che nel giro di una o massimo due stagioni questa Serie potrà incominciare ad appassionare anche i più scettici intanto come vedete sto preparando la formazione, in questo episodio vi farò vedere un bel po' di partita andremo avanti, arriveremo a inizio aprile e visto che la stagione in Serie B finisce un mese prima direi che poi mancheranno veramente pochi episodi prima della fine della stagione poi un altro consiglio che vi volevo dare per le tattiche personalizzate che io sto iniziando a scoprirle da poco quando voi in stagioni online, testa a testa, vi trovate bene col modo di giocare di una certa squadra vi consiglio di salvare la tattica personalizzata in modo che potete utilizzare la stessa fluidità di gioco anche con le altre squadre che volete usare poi come vedete il rapporto squadra Caracciolo è sceso di 1 quindi un po' peccato vedere questo bomber che pian pianino si sta spegnendo mentre invece gli altri giovani sono tutti già a più 5 tra il più 4 e il più 6 comunque di crescita quindi mi fa molto piacere vedere che comunque tutti i giovani stanno salendo bene la partita che state per vedere è Brescia-Bari e contando che il Bari è secondo a più 2 direi che è proprio un big match inizia con questo tiro di Nana Welbeck ben parato dal portiere Lamanna e poi nel secondo tempo su una punizione a favore del Bari parte il nostro contropiede dove Bui viene lanciato da Mitrovic ma alla fine purtroppo nonostante il bel tuffo di testa Mitrovic non riesce a trovare lo spazio giusto per segnare e poi un po' troppo caos in area di rigore avversaria non riusciamo alla fine a trovare la conclusione però per fortuna a 8 minuti dalla fine è proprio lui Marco Mitrovic il nostro forte talento svedese tra l'altro l'unico non comprato da noi ed è anche quello che sta facendo meglio quindi un po' diciamo posso sentirmi un po' colpito nell'onore col fatto che il più forte tra i giovani che abbiamo in squadra è proprio quello che non ho comprato però chi si aspettava che Mitrovic potesse diventare così forte penso nessuno comunque come vedete a destra siamo adesso secondi a meno 9 ancora dall'Elas Verona però per fortuna almeno a più uno dal Bari e il secondo posto è quello che vorrei tenere fino alla fine della stagione chiaramente in base a quanto sarà possibile fare però spero di reggere su quella posizione lì in modo da andare in Serie A con tranquillità senza temere colpi di coda finali di campionato e dopo di che affrontiamo il Padova che come vedete in basso a destra ha 4 infortunati gioca con praticamente centrocampisti in difesa attaccanti a centrocampo quindi direi una formazione un po' fatta alla cavolo e dobbiamo approfittare di questa debolezza del Padova per colpirli e al 23esimo Mitrovic sempre lui fa un gol spettacolare che dovete contare essendo lui mancino è anche di piede debole questo gol e nonostante questo la potenza con cui raggiunge l'angolino con questo destro è veramente incredibile e ripeto è proprio lui adesso il nostro bomber l'Alcovic invece che ha grandi qualità in velocità e in assist in tiro è ancora un po' debole e infatti spesso lo trovo sotto porta che comunque non riesce ad avere la freddezza giusta per segnare però per esempio in questa partita l'ho adoperato come esterno sinistro e quindi diciamo che il fatto che abbia sbagliato un gol è l'ultimo dei problemi al momento e come vedete al 45esimo è l'unico minuto in cui la squadra avversaria diventa Gesù però per fortuna la mia difesa questa volta ha retto bene quindi nel secondo tempo siamo andati con il vantaggio di 1-0 abbiamo provato a raddoppiare il vantaggio prima qua con Benzia poi su un contropiede Welbeck l'ha data sempre a Benzia e abbiamo tentato la rovesciata con Fausto Rossi ma la manna no scusate il portiere del Padova quindi non la manna che era del Bari la parata e insomma finisce anche questa partita 1-0 una partita molto simile a quella di prima in cui però magari non molto entusiasmanti a livello di gol però almeno sono stati molto compatti in difesa e in questo modo abbiamo evitato per due partite di fila di subire gol che è già qualcosa e abbiamo fatto dei sei punti tondi cosa che nello scorso episodio non eravamo riusciti a fare e adesso ci dedichiamo un attimo di pausa con le qualificazioni al campionato del mondo dove stiamo allenando la Svizzera e è comunque utile avere la Svizzera oltre al Brescia per poter fare anche dei paragoni tra il livello di gioco dei giocatori ancora chiaramente un po' scarsi della Serie B rispetto a giocatori delle nazionali in questo modo ci rendiamo conto della differenza effettiva che c'è tra questi campioni e quei giovani che ancora devono crescere, che militano in Serie B la partita che vi faccio vedere è Svizzera-Austria sarò veloce perché comunque non sono partite entusiasmanti tutto si è deciso con questo bel contropiede da Xhaka a Barnetta che è la data a Derdi Jok che poi davanti al portiere ha lasciato libero Barnetta di segnare il gol della merda come dico io e c'è comunque una partita importante perché era una sorta di derby o comunque una partita vissuta molto intensamente tra due nazioni che si trovano di fianco Svizzera e Austria che evidentemente non si vogliono tanto bene così suppongo quindi importante vittoria e come vedete siamo a meno uno dalla Germania quindi stiamo facendo molto bene con la Svizzera poi questa era una partita singola in realtà non so bene perché perché di solito per le qualificazioni mondiali ci sono due partite e invece qua c'era una partita singola e quindi ci ritroviamo già col Brescia questa volta rimetto il 4-3-3 come vedete sto ancora continuando a cambiare formazione non so se a questo punto della stagione sia ancora un bene però fino ad ora le tante scelte le tante opzioni di gioco hanno avuto tutte quasi una risposta positiva quindi fino ad ora il cambiare spesso non ha portato a delle catastrofi affrontiamo il Lanciano che è una squadra diciamo più debole di noi quello sicuramente però un po' ostica e speriamo di avere un'altra vittoria tonda come le prime due che vi ho fatto vedere avete visto qua il Fausto Rossi ha fatto un bellissimo lancio per l'Alcovic che però qua si è fatto parare il tiro e il primo tempo comunque è gestito molto bene da noi come vedete anche da questo giro palla e poi c'è sempre lo scavetto per il tiro del giocatore questa è un po' la tattica che mi sono accorto di usare io in questo caso però Caracciolo ha dato un ottimo pallone a Fausto Rossi che non ha approfittato del bel cross per segnare poi nel secondo tempo invece più occasioni sia da una parte che dall'altra qua Welbeck ruba la palla molto bene all'attaccante del Lanciano può partire il nostro contropiede con l'Alcovic che fa questa grande cosa arriva fino in fondo e poi la passa in mezzo a Benzia che segna questo gol molto pesante dall'ottantesimo tutto lascierebbe pensare che stiamo andando verso un altro 1-0 invece purtroppo alla prima vera occasione per il Lanciano questa serie di passaggi molto veloci dà la possibilità a testar di segnare pensavo all'inizio che fosse in fuorigioco invece era appena in linea e quindi ha approfittato di questo errore nostro per segnare all'ultimo secondo il pareggio quindi purtroppo davanti al Lanciano ci siamo dovuti piegare per 1-1 e come vedete nel frattempo tutto marzo è finito non so se vi piace questo nuovo modo di fare gli episodi secondo me è utile visto che faremo più di una stagione col Brescia stare troppo tempo sulla stessa stagione e rallentare gli episodi non so quanto sia bello quindi sto provando a velocizzare un po' i ritmi e quindi come vedete anche qua a Simulando abbiamo vinto 2-1 con la Pro Vercelli e quindi siamo in piena corsa per la promozione comunque per il momento è tutto mettete mi piace e vi aspetto numerosi alla prossima puntata e quindi siamo in piena corsa per la promozione